A partire da mercoledì sarà attiva la Casa dell'Acqua in Viale Santa Paneggia. Quali sono le principali novità? Le principali novità è che da mercoledì si potrà prendere l'acqua presso questa Casa dell'Acqua che sta fatta installare nel Comune. Acqua naturale a 0,029 centesimi al litro e gassata a 0,039. Questa è la prima delle cinque che abbiamo previsto. Speriamo che entro i prossimi mesi possano essere installate anche le altre quattro. È un prezzo molto basso e un ulteriore aiuto che diamo ai cittadini, un ulteriore servizio.